Salve, io sono Giannarelli Roberto, sono il birraio di questo piccolo birrificio che alla Petroniola. Nato nel 2002 è stata fatta la prima prova per scherzo con un pentolo sul fuoco. Da allora abbiamo provato a portare questa birra al Salone del Gusto, lì ha riscontrato abbastanza e così abbiamo provato con il primo impiantino. Nel 2005 è diventato effettivo questo impianto. Qui siamo a Petroniola che è un piccolo paesino di 56 anime e diciamo che è stata un po' una scommessa fare questa cosa in questo paesino, sia per la logistica sia per tante altre cose, però d'altro canto ho avuto le mie belle soddisfazioni. In questo paesino diciamo è il cuore della cultura del faro. Qua attorno ci sono campi solo a farro ed è anche il faro migliore che ci sia, il faro IGP della Garfagnana. E proprio in questo piccolo paese il faro viene coltivato, brillato, viene lavorato per la cucina. Io ci ho fatto la birra, ci viene fatto il pane, viene fatto tutto. In questo paese il ciclo del faro inizia e si chiude attraverso il bestiame del mio amico Paolo, perché attraverso il concime torna da dove è nato, cioè nel campo. Praticamente è una filiera completa del faro in questo piccolo paese. L'idea di fare questa birra col faro è nata un po' per scherzo. Io non sono di queste parti, ci ho sposato e quindi abitando qui, imparando, conoscendo la gente, ho voluto provare a fare questa cosa, parlandone, più che altro parlandone. E sì che ho provato a fare questa birra diciamo con il faro, ne faccio 3 o 4 tipi che sono a base di malto d'orzo e faro crudo in percentuale. Ma ultimamente, da un paio d'anni a questa parte, ne ho fatta una molto particolare, che è 100% faro, cioè l'unico cereale che adopero è faro, faro maltato. Mi faccio maltare da solo da una piccola malteria in Germania. Quella è stata una vera scommessa, perché è molto, non dico difficile, perché difficile se vogliamo non c'è niente, neanche di impossibile, però è abbastanza dura produrre questa birra. Ha le sue difficoltà, molte difficoltà, in più da una birra normale fatta con malto d'orzo. Ora non sto alencare tutte le problematiche, perché ci vorrebbe mezza giornata. Insomma, questa birra sta veramente incontrando la gente. Sembrava che all'inizio non fosse una cosa da poter andare, invece sembra che incontri. E speriamo che continui così nel futuro. Qui siamo, come ho già detto, nel piccolo birrificio. Abbiamo una macchina austriaca, per fare la birra. Questa è una macchina austriaca per fare la birra. Direte perché una macchina austriaca e non italiana, visto che ora la birra in Italia sta dilagando, sta scoppiando. Niente, non c'è un motivo ben preciso che abbia scelto questa macchina se non, diciamo, la sua compattezza di questo impianto e la sua è molto intuitivo. Allora, questo qui è un impianto a tre pini, anche se in realtà se ne vedono solo due. Questa è la caldaia principale dove si fa l'ammostamento, cioè praticamente dove si mette acqua e cereali macinati e si miscelano con varie temperature, per ottenere poi un mosto. Questo mosto si porta poi nel filtro, che sarebbe questo. Questo qui, che sembra un unicotino, in realtà sono due. E sono collegati da questa tubazione. Ecco perché, dicevo prima, è molto compatto e molto intuitivo. E' molto semplice anche nei lavaggi. a solo quattro tubazioni. Si passa tutto l'impasto dei cereali nel tino. Si fa percolare il mosto e si aggiunge anche acqua calda. Quando si è ottenuto il liquido desiderato, cioè il mosto desiderato, si riporta tutto nella caldaia, che è l'unica che ha le resistenze elettriche per scaldare. Qui ora si fa bollire. Nella bollitura si aggiunge anche il lupolo, il fiore classico aromatizzante e anche amaricante. Serve però anche per conservare la birra, se vogliamo, perché è un ottimo conservante e un ottimo antisettrico. Finita la bollitura, si riporta nel tino di sotto, in questa parte, che si chiama whirlpool, dall'inglese mulinello, perché il mosto viene poi sparato alla massima velocità della pompa, in modo che, prenda un moto vorticoso, tutte le proteine che si sono formate nella bollitura e le farine di lupolo si possano concentrare sul fondo, in modo che noi dopo, successivamente, andiamo a prelevare da questa valvola, con la tubazione e la pompa esterna, e passiamo lo scambiatore di calore. È semplicemente uno scambiatore ad acqua. Praticamente qui arriva mosto caldo, qui entra acqua fredda, da qua uscirà mosto freddo e praticamente da qui uscirà acqua calda, che io vado a recuperare qua dentro e dopo mi servirà per i lavaggi, l'acqua calda. Dallo scambiatore si passa al fermentatore. Quando il fermentatore è pieno, cioè è ottimato tutto il travaso, si aggiungono i lieviti e si lascia fermentare per qualche giorno, 10-12 giorni circa. Una fase è la fermentazione e una fase è la decantazione dei lieviti, in questi giorni, nell'arco di questi giorni. Dopodiché si va all'imbottigliamento. L'imbottigliamento, c'è da dire una cosa, questi tini non sono ermetici, cioè dall'alto la CO2 della fermentazione fuoriesce, perché a noi in questo caso non serve la CO2, perché viene poi rifermentata in bottiglia. All'imbottigliamento invece viene, cioè la bottiglia che viene chiusa praticamente è un po' come se fosse un piccolo ottino con la CO2 che si crea all'interno. Essendo tappata, rimane lì e forma pressione e anche le famose bollicine. Cioè la CO2 che è all'interno delle bottiglie è naturale, è creata dai lieviti che ci sono, che sono rimasti diciamo nel liquido e con una piccola aggiunta di zuccheri questi ripartono e rifanno una seconda fermentazione. Questa qui è l'ambrata al farro, è la prima nata, ha 5 gradi e mezzo volume, è abbastanza, non è proprio dolciastra, ma ha una punta di dolce. Si abbina bene al prosciutto bazzone della Garfagnana che ha un gusto un po' particolare e poi anche con altri salumi e formaggi delicati però, con le zuppe, le minestre e si beve bene anche da sola. È disponibile in due formati 33cl e 66cl. Questa qui che è la nera al farro, segue la stessa diciamo lo stesso stile più o meno di tutte, è molto più corposa, a 7 gradi. Questa si abbina bene con salumi più forti tipo il prosciutto di cinta sianese se vogliamo e formaggi un pochino più sostanziosi e va bene anche con stufati e carni rosse. Questa qui è una delle ultime nate, è la Sandy dedicata interamente a mia figlia. il suo nome, il suo gatto, il colore dei suoi capelli e spero di averci preso un po' anche col carattere. Non lo so, dovrebbe essere abbastanza dolce ma deciso nello stesso tempo perché a 7 gradi è anche questa. Questa qui si abbina molto bene a salumi come l'altra, prosciutto tipo cinta sianese, salumi piuttosto sostanziosi e formaggi lo stesso, anche quelli più decisi. Però va bene anche da sola. Questa qui è molto da divano, da meditazione se vogliamo. Questa è disponibile 33,75. Questa è fatta con una percentuale di castagne, la faccio per l'Associazione Castanicoltori della Garfagnana. Loro mi danno le castagne macinate e io le metto dentro all'impasto di cereali. Anche qui c'è una piccola parte di farro, però qua molto bassa, più alta le castagne. Questa a 6 gradi e mezzo, si abbina bene con prodotti a base di castagne, il pane di castagne con il lardo e salumi di ogni genere diciamo. Questa è disponibile a 66 e 33 centilitri. Questa invece è stata la mia scommessa, più che altro con me stesso. Questa qui è la 100% farro. Qui c'è solo, come cereale, c'è solo farro della Garfagnana. Quello, come ho detto prima, che vado a farmi maltare in una piccola malteria in Germania. È molto leggera, a 4 gradi. Questa qui è molto dissettante e molto beverina. Anche piuttosto amarognola, una cosa voluta questa, perché deve dissettare di più. L'estate, bella fresca, questa qui si beve tranquillamente da sola, come aperitivo, con il pesce, con cose leggere. Ma più che altro va bene da sola. A me piace più da sola. È da averne tanta. A me la si spera. Si fa per quello. È disponibile 33 e 75 centilitri anche questa, come la Sandy. Niente, questi sono i prodotti della Petroniola. B Grazie a tutti.